Ristorante Maximum. Gusto, bellezza e storia. Ampie terrazze e giardini tropicali, i freschi zampilli di fontane e cascatelle. In un ambiente elegante caratterizzato da un'atmosfera esclusiva, potrete gustare oltre a pizze cotte nel forno a legna, un'ottima cucina tradizionale con frutti di mare e carni alla brace. Presso il Maximum Ristorante e Pizzeria troverete inoltre la location ideale per cerimonie importanti, meeting, buffet, party e feste. Di sera poi vi attende il bar, dove gustare appetitosi stuzzichini e cocktail, ascoltando musica. Maximum Ristorante e Pizzeria, per una serata tutta da vivere, a Cava dei Tirreni in Via Luciani 3.